Preparati a un Natale scitillante! E stai arte per te Arte per te Ciao a tutti e benvenuti da Umbretta su Arte per te Secondo video sul Glitter Spray Sì, una formula un pochettino, meno per bimbi visto gli elementi che lo compongono ma di facilissima realizzazione di sicurissima resa di bellissima resa e fissaggio e soprattutto è molto più facile dell'altro da fare e qui ragazzi non si può sbagliare perché mentre nell'altro dipende molto dalla scelta del glitter che fate non far, con un termine tecnico, ingrippare lo spruzzino quindi non far bloccare lo spruzzino qui state tranquilli se scegliete l'elemento giusto lo spruzzino non si bloccherà mai cosa ci servono? solamente due cose lo sbalto delle unghie e dell'alcol e andiamo di là a preparare il nostro glitter spray glitter spray parte seconda adesso proviamo a fare lo spray glitter per tutti quei supporti che non riescono a supportare l'acqua quindi a ricevere acqua perché si imbarcano troppo si raggrinzano perché appunto sono repellenti all'acqua insomma a cui non piace l'acqua cosa useremo? useremo uno smalto per unghie l'importante è che sia così pieno di micro glitter è un micro glitter perlatissimo è luminosissimo questo l'ho pagato 80 centesimi dai cinesi dell'alcol il normalissimo alcol rosso è facoltativo se ce l'avete potete aggiungere del micro glitter trovate dai cinesi al reparto nail art questa boccettina così grande un euro se no niente e ci servirà naturalmente anche una boccetta spray io l'ho presa dai cinesi ma insomma è di facile reperibilità cominciamo subito riempiamo quasi tutta la boccetta diciamo i due terzi di boccetta riempiamoli di alcol dopodichè prendiamo il nostro smaltino agitiamolo bene tra l'altro è molto bello questo tono di dorato e tuffiamo il nostro smaltino all'interno dell'alcol ok io direi di creare un substrato quindi qua sotto alto poco meno di mezzo centimetro così ok a questo punto agitate e l'alcol scioglierà automaticamente lo smalto perfetto lo proviamo già così senza il glitter? forza forza questo viene veramente bello guardate siete pronti? vado non badate a questa macchia che c'era già prima ok perfetto wow voi non vedete niente ma qui è tutto uno sbrilluccico vi faccio vedere lo vedete lo sbrilluccico? aspettiamo che evapori l'alcol lui evaporerà tutto anche qui che c'è la macchia adesso rimarrà perché sotto c'è altro cartoncino che trattiene l'umidità ma l'alcol evapora vuoi non vuoi evapora e quello che rimane è un manto di glitter lo vedete in trasparenza? ecco così ed è tutto glitterato ecco ecco guardate no ma non è fantastico non è bellissimo e come vedete se passo il dito non va via vi faccio vedere da vicino allora vedete? non va via perché lo smalto rimane attaccato sul supporto alla fine lui torna giù basta tac 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 fare un paio di mossette così e lui si ripristina quindi questo metodo è ancora più facile del precedente poi se lo voglio ancora più carico di glitter aggiungo anche il micro glitter qualora lo avessi ma devo dire che io sono soddisfatta anche così e per facilitarvi il compito questo ve lo lascio senza i micro glitter così dovete comprare meno cose e poi se ce lo avete lo aggiungete e l'effetto sarà ancora più carico bene ragazzi che dire anche questa è fatta ah vi avevo detto la volta scorsa che potevate fare delle sagome per intenderci se io ho questo in un biglietto e voglio e magari se clicco bene è meglio posso fare anche questa cosa e il glitter sarà soltanto nelle zone scoperte quindi vedrete ecco qua si vede bene vedrete che la sagoma poi ci sarà una parte centrale dove rimarrà assolutamente netta ora queste macchie si toglieranno perché l'alcol evapora e potrete così fare delle figure anche degli ornamenti all'interno del vostro foglio che siano qua che siano strisce di scotch carta che siano sagome che poggiate tipo cucchiaini robe varie e dare le varie sagome e lasciare il resto glitterato che sia la sagomina di un albero di Natale ad esempio insomma sbizzarrite la vostra creatività basta soltanto un po' di smalto e dell'alcol è il gioco perché questo è veramente un gioco è fatto vi faccio vedere questo per esempio che è più indicato con l'alcol anche sulla carta velluto abbiamo questa è una carta velluto adesiva per esempio abbiamo una carta velluto a cui vogliamo dare un po' di luminescenza io la giro così ne prendo un pezzettino e vado bellissimo e questo con alcol e smalto è più indicato guardate qua si vede perfettamente sul nero guardate che ne esce guardate che ne esce non è fantastico questo glitter spray io sono sicura che vi piace tantissimo bene bene sono contenta adesso vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo ciao visto che è facile e visto che cosa si ottiene è con questo alcolico che evapora velocissimamente si può andare su stoff qualunque superficie che tolleri l'acetone e l'alcol perché dentro lo smalto c'è l'acetone e l'alcol lo aggiungiamo noi quindi prima casomai provate su un piccolo angolino ma diciamo che le stoffe le carte quasi tutte lo reggono qualche plus il polistirolo potrebbe avere qualche problema ma per il resto insomma andate lisci e divertitevi a spruzzettare tutto il periodo di Natale di tutti i colori glitterosi che vorrete bene basta parlare andiamo a glitterare il mondo se il video ti è piaciuto mi raccomando regalami un glitterosissimo brillantissimo pollice in su e soprattutto condividi questo video sulla tua pagina facebook e di questo io ti ringrazierò e ti sarò eternamente grata e non lo dico tanto per dire è vero perché mi aiutate a far crescere il canale e in più io vi aspetto sui miei altri canali ombretta il canale di lifestyle make up e dove parliamo molto e due quale la cappa il canale di cucina dove prepariamo cose golosissime e buonissime basta che dire vi aspetto tutti a Bologna in questa data per l'incontro di arte per te che si terrà verso la fiera del mondo creativo la fiera della creatività quindi sì venite per me venite per conoscerci ma nel frattempo potrete vedervi anche tutta la fiera piena e pregna di cose bellissime per la creatività e così avremo modo di scambiarci un abbraccio live a cui io tengo veramente veramente tanto insomma mobilitatevi venitevi a trovare speriamo ci sia qualcuno però quelli di Bologna almeno venitemi a trovare detto ciò vi do appuntamento al prossimo video da Umbretta e da arte per te è tutto ciao vi voglio bene alla prossima volta vi voglio bene